Sì, Agostino, che cosa fate? Avevo un appuntamento. Un appuntamento? Con chi? Ogni anno, questo giorno, salgo quassù, all'alba, e osservo le cicogne migrare. Se solo potessimo volare via con loro. Vorrei che tu potessi farlo. I vandali sono sempre più impazienti. Ormai non arriva quasi più cibo in città. Ci affameranno finché non avremo scelto. Che cosa possiamo fare? Questo non dipende più da noi. Voi due, spostatevi sul lato nord. E arriva una tempesta di sabbia. Fissate tutte le tende. Attenti! Maestà, siamo pronti. Gli uomini aspettano solo un vostro ordine. Alimentate i fuochi. Ippona ricordi che siamo qui. Poi, una volta passata la tempesta, attaccheremo. Poi, una volta passata. Non c'è più acqua. Ma che succede? Non c'è più acqua. E come facciamo? Eh sì. Non c'è più acqua. Io non lo so. Resisteremo solo pochi giorni così. Andiamo a vedere. I vandali! Forza, corri! I vandali hanno bloccato l'acqua! E' mio! E' mio! E' mio! E' mio! No! No! Ma è anche l'acqua! Fermi! 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 Il pescov' Agostino. Sì! 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 Sì, procederà. Che succede, Fulvio? I vandali hanno struito il passaggio dell'acqua. Dobbiamo prendere quella rimasta nel pozzo, o moriremo. Se ci lasciamo prendere dal panico, i vandali vinceranno senza oltrepassare le porte della città. La paura e la violenza ci uccideranno tutti, prima ancora della sete e della fame. Come vostro vescovo e cittadino di Ippona, io vi prometto che c'è speranza. Posa col ferro. Tanto moriremo lo stesso, vescovo. Ormai non c'è speranza. Sbagli, Fulvio. C'è ancora speranza. Perché abbiamo ancora il modo di salvare la nostra città. Una possibilità per cui mi impegnerò personalmente. Mi impegnerò affinché i vandali depongano le armi. I vandali non deporano le armi. Ma che sta dicendo? Il vescovo è un illuso. Si può trattare con gente come loro. Ma cosa sta dicendo? Il vescovo è un illuso. Bisogna avervi... E come? Abbi fede. Guarda, i soldati rinani. Dio sia lodato. Vieni a vedere. Guardate quanti feriti. Portateli qui. Centurione Fabio Domizio. Ai vostri ordini, governatore. Siate il benvenuto. A quale legione appartenete? Alla settima. La settima? Pensavo che fosse stata annientata. È stata sconfitta. Ma io e la mia centuria siamo sopravvissuti. Abbiamo marciato per giorni in territorio nemico scortando questi civili. Approfittando della tempesta per attraversare le linee vandali. Avete sentito? Questa legione ci dimostra che l'assedio può essere spezzato. Che l'esercito dei vandali può essere sconfitto. Non perdiamo dunque la speranza. Roma trionferà ancora. Se ti ostini a inseguire la vittoria militare, porterai questa città alla rovina. La vostra presenza a Ippona era l'unica cosa che mi tratteneva dal venire qui, vescovo Agostino. Mi conoscete? Vi ha conosciuto mio padre. Tu sei il figlio di Lario. Vescovo Agostino, io e questa gente abbiamo marciato nel deserto con una sola speranza, quella di affidarci completamente a voi. Portate i feriti nella basilica. Come stanno gli altri feriti? Spero meglio, fra poco. Nella basilica non si può entrare armati. Perché? È sacrilegio. Lucilla, lasciale entrare. L'unica cosa sacra qui dentro è la vita di questa gente. E a salvarla è stata questa spada. Un messaggio da Roma. Il Papa vuole che voi e i vostri libri siate messi in salvo al più presto. E com'è possibile in una città assediata? Pare che il Papa abbia già inviato tre navi. Pochi giorni ancora saranno qui. Questo significa che dovrei imbarcarmi con tutti i miei libri e fuggire? A Roma, esatto. E abbandonare il mio popolo? È il Papa in persona che ve lo ordina. Ma sono il vescovo di questa città. Ma ormai questa città non vi merita più. Non avete visto cosa è successo ieri, quando è arrivata quella legione di Romani? È bastato per far pensare a tutti di non avere più bisogno di voi. Bisogno di me. Guarda, Possidio. Questa è la tua caligrafia. Ma sono le vostre confessioni. Già, le mie confessioni. Fosse stato per me, anch'io sarei ancora nient'altro che un povero. Un povero presuntuoso, convinto di non aver bisogno di niente, tranne che di me stesso. E se in me c'è qualcosa di prezioso, io lo devo soltanto a mia madre. Mia madre, che mi partorì con la carne, a questa vita temporale, e col cuore alla vita eterna. Continua a spingere. Il bambino è troppo alto. Va subito a chiamare il padre e dirgli di sbrigarsi. Non lo sento più muovere. Perché? Ascolta, voglio che ti prepari. Per cosa? Lo sai. E tu sai cosa mi stai chiedendo, Monica? Morirai. Se non lo fai, moriremo tutti e due. Devi farlo. Voglio che mio figlio viva. tolta, toglia. Togia. Ma è ancora? Patrizio. Patrizio. Cosa vuoi? Tua moglie sta per partorire. Sta vincendo. E lei sta morendo. Giochi tu al posto suo. Sì. Padre mio. Aiutami, consegno a te la mia anima. Aspetta. Lo sento muoversi. Lo sento muovere. È vivo. Monica. È un maschio, Patrizio. Un maschio? Sì. Allora, come lo chiamerete? Costanzo. Come il nostro imperatore. No. Costanzo è solo uno degli imperatori. Lo chiameremo Agostino. Piccolo Augusto. Come il primo degli imperatori. Agostino! Mi è spaventato! Andiamo! Non sono parole. Sono fatti. Ma qualcuno potrebbe chiedervi. Perché dobbiamo pagare le tasse a Roma? Sapete, anch'io vengo da un piccolo paese come questo. Mio padre era un contadino forte, onesto, lavoratore, proprio come voi. Non avevi detto che viene da un'importante famiglia di Roma? Sì, infatti. Ma ora sta recitando per ringraziarsi la gente. Poneva una monete guadagnate in un vaso. La metteva da parte per le tasse. Un giorno gli chiesi, perché non spendiamo queste monete per noi invece di darle a Roma? E lui pazientemente mi rispose. Figlio mio, con queste monete tutto quello che possiamo comprare è una capra. Mentre Roma, con quelle monete, costruirà un impero. Roma non vuole i nostri soldi perché noi siamo Roma. Non sono parole. Sono fatti. Adios, venire! Bravo! Voglio diventare come lui. Come Macrobio? Perché? Voi l'avete sentito? Lui con le parole può convincere la gente a fare quello che vuole. Non sono parole. Sono fatti. Con quella lingua non farei fatica a diventare come lui. Ma se resto qui non avrò nessuna possibilità. E dove pensi di averla questa grande possibilità? A Cartagine. Voglio studiare con Macrobio. A Cartagine? Tu sei solo un ragazzo. Hai idea di quanto costi poter studiare con un maestro famoso come Macrobio? No. E voi? Certo. Più di quanto tu possa immaginare. Smettila con queste stupide idee. Ma Patrizio, potremmo risparmiare. Agostino merita una scuola... Agostino si dovrà accontentare della scuola di Tagaste. Come ho fatto io. È mio padre prima di me. Discorso chiuso. Padre, dove state andando? Alla taverna. Non è vero. Cosa vorreste insinuare? Vi siete profumati i capelli. Non lo fate mai quando andate alla taverna? Agostino no. State andando da Uridice, la vostra amica. Come ti permetti? Non rivolgerti mai più in questo modo a tuo padre. Non è giusto. No, non è giusto. Lo so. Non è giusto. Allora perché non le dite di niente, madre? Le parole non bastano cambiare una persona. neanche le tue. Cerca di capirlo, figlio mio. Figlio mio. Vieni alo. Vieni. 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 Mangiamo Che state facendo? Fermi! Che ci fate qui? Quelle pere sono mie Fermi! Ladri! Quelle pere sono mie Ladro! Commisi un furto Rubai quello che avevi in abbondanza Agostino Ed il resto Non era per goderne che volevo rubarlo Ma per il furto stesso Per il peccato Volevo fare una cattiveria gratuita Senza avere altra ragione D'essere malvagio che la malvagità Ecco com'ero Un'anima vergognosa che stava per annientarsi Ecco Tenete Spero che bastino per i frutti che avete perso Non ce n'è bisogno Di frutti ne rinascono uguali ogni anno Sono i figli che se perdono la strada Allora sono persi per sempre Perché l'hai fatto? Rispondimi Perché l'hai fatto? Mi fai soffrire Agostino Io? Io vi faccio soffrire? Mio padre intendete dire? Mio padre vi fa soffrire Si gioca a quei pochi risparmi che abbiamo Beve come una spugna E sono anni ormai che vi tradisce Lui vi fa soffrire non io! Basta non dire altro Patrizio è quello che è Ma tu Tu non sei come tuo padre Ah no? Non sono così Come dovrei essere allora? Devoto al vostro Dio? Una persona perfetta? No Non perfetto Solo Se resta ancora qui Prima o poi diventerò proprio come mio padre Immagino che tu non sia venuta Solo per assaggiare il mio olio E complimentarti per la mia bella villa O per parlare di mio figlio Infatti Sono qui perché voglio parlarti di mio figlio Di Agostino E' ancora il ragazzo più intelligente della scuola Oh sì Ma credo che gli farebbe bene andare via di qui Vorrei mandarlo a studiare a Cartagine Ha ascoltato Macrobio E ora vuole diventare un avvocato Un avvocato? E come pensate di mantenerlo agli studi? Lo sai che non possiamo Romagna non ricordi quando eravamo ragazzi? Ti fu offerta l'opportunità di cambiare la tua vita Non ce l'avresti fatta da solo Macrobio farà sicuramente di Agostino un valente avvocato Muovetevi! Avanti, forza! Agostino! Cosa è questa piatta? Tieni, è una tunica nuova Indossala quando vai da Macrobio E non sporcarla Sì, madre Prendi questo E' formaggio di capra Non puoi presentarti a mani vuote Lo so Stai attento Cartagine è una babilonia Non bere troppo Mi raccomando, ragazza Devo andare! Che Dio sia con te, figlio mio! Dio! Grazie, mi basto io! Woo! Addio! Addio! Con viaggio, Agostino! Buona fortuna, figlio mio Di chi erano, se non di Dio Le parole che mi risuonavano nell'orecchio per bocca di mia madre Addio fedele Ma non mi scendevano in cuore Nemmeno una ci arrivava per tradursi in fatti I suoi mi sembravano consigli da donne Che mi sarei vergognato di seguire E invece Erano di Dio E io non lo sapevo E in lei Io disprezzavo Dio Sto cercando Liberio Prisco Io sono Valerio Prisco Mio padre non è in casa Chiudi la porta Mi chiama Agostino Mi manda Romaniano Romaniano? Di Tagaste Quello dell'olio? Mi chiedo cosa Romaniano speri di spremere da uno come te Entra Ti aspettavamo ieri sera Lo so, mi dispiace Ma sono stato trattenuto Trattenuto da due bei fianchi? No, di solito non viaggio sul carro pubblico Ha tardato ad arrivare Il carro pubblico Non ci sono mai salito Nemmeno io Almeno fino a ieri Calida Questa sarà la tua stanza Grazie Valerio Calida sarà al tuo servizio Viene dai grandi deserti Gente molto affidabile Due bei fianchi Un buon modo per essere trattenuto Cosa stai facendo? Vi slaccia i sandali per levare la polvere dei vostri piedi Non ce n'è bisogno Lo faccio io Mi dispiace ma sai Io non ho mai avuto una persona al mio servizio Ci farete l'abitudine Non credo Grazie Non si ringrazia mai la servitù Non le si chiede perdono O non avrà rispetto per voi Grazie Grazie E quindi l'imputato è accusato Di furto Saranno sentiti oggi in aula I due testimoni E comunque ci sono parecchie prove A suo carico Non sarà un processo facile Eccoci qua Avvocato Macrobio? Sì Il mio nome è Agostino Mi manda Romagnano Ah tu sei il giovane Che vuole diventare avvocato Sì Sei di Tagaste Vero? Esatto Ma dico io È mai uscito qualcosa di buono Da un posto come Tagaste? Io non ho bisogno Di prendere nuovi allievi Ma come? Sì Ti prenderò soltanto Se mi dimostri Di avere abbastanza talento Da meritarti un maestro come me Come? Ecco L'arte degli oratori È persuadere le persone A fare quello che vogliono Non è così Allora convincimi A prenderti come mio allievo Coraggio ti ascolta Io Io vi ho visto Non sei riuscito a convincermi Torna a Tagaste Credimi Per il tuo bene Come ho potuto essere così stupido Che stupido 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 Scena muta Non ha aperto bocca Convincimi a prenderti come mio allievo Certo che ti convinco Tornerò domani Cosa credi che abbia paura? Che stupido 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 Io di nuovo Avanti Prova a darmi di nuovo Dello stupido No no Non mi riferivo a te Ma a me Hai capito male Ah ho capito male eh Sì No Voglio dire no Non intendevo Se pensi che io non abbia capito Allora mi stai dando dello stupido No Non capisci Sono io lo stupido Già Sì è vero Sei tu lo stupido Stupido Andiamo Secondo voi è stupido? Quelle bande di giovani Aggredivano con prepotenza La timidezza dei nuovi arrivati E li spaventavano A furia di scherzi gratuiti Giusto per sfogare La loro Maligna allegria Niente È più simile Alle azioni dei demoni Agostino Tieni a fare il bagno con noi Agostino Agostino La tua è di granunga La maschera migliore Non c'è niente da ridere Mi hanno picchiato Avresti dovuto lasciare Che ti mostrassi io la città Vieni Sono io che ci vuole Per le tue ferite Agostino Agostino Aspetta Agostino Arrivai a Cartagine E mi trovai immerso In un bagno ripollente Di amore Non hai fatto una gran figura Alla festa ieri sera Credo che questo posto Non faccia per te Agostino Meglio se te ne torni a casa Così almeno Romaniano Capirà che da uno come te Non c'è niente di buono Da spremere Che ne sai tu Tuo padre è un uomo ricco Hai tutto quello che vuoi Dici che ho tutto eh Mio padre è molto ricco vero? Lascia che ti dica una cosa Agostino Una cosa che non sa nessuno Al di là di queste mura La verità è che Mio padre non esiste È morto due anni fa Morto lui I suoi affari sarebbero finiti Una volta per sempre E finiti i suoi affari Sarei finito anch'io Niente più casa Niente amici Niente Così l'ho seppellito in segreto Con le mie stesse mani E ho continuato a portare avanti I suoi affari Al posto suo Una cosa è certa Nessuno mi ha mai dato niente Tutto quello che ho Me l'ho solo preso Capisci Agostino? Nella vita se vuoi qualcosa Non chiederla Non chiederla Prendila Padre nostro che sei nei cieli Sia santificato il tuo nome Venga il tuo regno Sia fatta la tua volontà Come un cielo così interno Dacci oggi il nostro Avvocato Macrobio Il ragazzo di Tagast Giusto? A Tagast vi ho visto fare qualcosa di straordinario Avete reso tutti felici di pagare le tazze Per questo i miei cominci sono così richiesti dai governatori Continuavate a ripetere Non sono parole Sono fatti E ho capito perché Insomma mi sono chiesto Di Di che cosa dispone un oratore come voi? Nient'altro che parole Armi molto deboli Come si può allora renderle più forti? Semplice Facendo credere a chi ascolta che non sono solo parole Continuavate a ripetere Non sono parole Sono fatti E a poco a poco le vostre parole diventavano fatti Tutto ciò che dicevate Diventava vero Posso fare di te un buon avvocato Ma il diventare un giorno un grande oratore Dipende da te Perché sai qual è la differenza tra un grande oratore e uno qualunque? Il talento! No Il coraggio Perché? Un giorno lo scoprirai Bene Allora cominciamo L'uovo a sode Alici Carne rossa alla braccia E una grande coppa di latte di capra Muscoli Devi metterti in forma Un oratore deve emettere la nota possente di un corno E non il flebile mormorio di un flauto Su mangia De Mostne era balbucciante Ma si costrinse per mesi a parlare con un sasso in bocca E così diventò il più grande oratore del suo tempo Poiché nell'oratorio non esiste niente di più importante Poiché nell'oratorio non esiste niente di più importante Non basta sapere cosa È proprio avere un oratore la memoria delle cose E possiamo fissarla disponendo con cura le singole figure rappresentative È propria dell'oratore la memoria delle cose E possiamo fissarla disponendo con cura le singole figure rappresentative E possiamo fissarla disponendo con cura le singole figure rappresentative Fiato Un oratore deve saper parlare per ore, in piedi Accompagnando la parola con i movimenti di tutto il corpo Come un attore Un danzatore Un soldato perché in tribunale si combatte una guerra e sono le parole a vincere le guerre. Questo è il grande teatro. Qui va in scena lo spettacolo della giustizia. Uno spettacolo di cui tu diventerai il primo attore. Vieni. I testimoni accusano il mio cliente Getulio di aver tentato di uccidere sua moglie. I conoscenti riportano pettegolezzi su certe minacce di Getulio nei confronti della moglie. I magistrati sostengono di aver prodotto delle prove a carico. Di Getulio. Testimoni che accusano. Conoscenti che riportano. Magistrati che sostengono. Quante parole. Come posso pretendere che ora ascoltiate anche le mie? Ve ne hanno già propinate più di quanto il vostro stomaco possa digerirne. Facciamo così. Per una volta le parole mettiamole tutte da parte. Mettiamole da parte. E prestiamo ascolto soltanto al nostro cuore. Poiché è lì. E non qui dove si agitano gli avvocati, i magistrati e gli imputati. E' proprio lì nei nostri cuori che possiamo distinguere il vero dal falso e le parole dai fatti. Voi non dovete ascoltare me. Dovete ascoltare voi stessi. E provate dunque a trovare le risposte a queste domande nel vostro cuore. E' stata forse rinvenuta da qualche parte l'arma del tentato omicidio. No. Queste non sono parole. Sono fatti. La moglie dell'imputato riporta forse delle ferite che dimostrino che qualcuno abbia tentato di ucciderla. No. Queste non sono parole. Sono fatti. L'imputato qui, presente, ha forse il minimo precedente per atti di violenza in grado di comprovare l'accusa mossa nei suoi confronti. No. Queste non sono parole. Sono fatti. Vi hanno fatto ascoltare tante. Fin troppe parole. Lasciate ora che nel vostro cuore risuoni non la voce dei testimoni, degli avvocati e dei magistrati. Lasciate che risuoni l'unica voce veramente degna di fede. La voce dei fatti! Un bel discorso. Convincente soprattutto. I miei studi ebbero sbocco nei tribunali litigiosi, dove la gloria è proporzionale all'abilità negli invrogli. Ormai ero fra i primi e mi andavo superbo. Aspiravo ad emergere. Col fine fatuo e deplorevole di godermi i fasti della vanità umana. La mia anima era come sulcerate si gettava fuori, infelice, nel desiderio di farsi toccare e graffiare dai corpi, che nessuno amerebbe se non avessero un'anima. Amare ed essere amato mi era più dolce se possedevo anche nel corpo la persona amata. E così inquinavo la sorgente dell'amicizia con i veleni della passione. Agostino, ma dove sei finito l'altra sera? Oh, chiedilo a Criside, sono stato rapito da lei. Non ricordo più dove mi ha... Dove chi ha? Dove mi ha portato. La prossima volta ti rapisco io per prima. Guarda che hai fatto! Mi hai versato addosso tutto il vino! Questa tunica... Mi dispiace! Ehi! Te l'ho scusata a Roma, non l'ho fatta! Non mi è successo niente, su, lascia stare! Ascolta, non mi hai ancora detto se ti è piaciuta la mia ringa, Valerio. Come sempre, quante cause hai vinto finora? Ah, ho smesso di contarle. Questa casa e questa città sono troppo piccole per te, Agostino. Tu adesso meriti Roma. Guarda, mi sono fradicio! Questa non la passi liscia, capito? Agostino, ieri sera hai dimenticato questo a casa mia. Ah, il mio bracciale. Contavo di passare a riprenderlo. Tienilo pure, tu te lo regalo. La prossima volta che passerai da me non avrò che quello, addosso. Quello di prenderò lo stesso. Agostino! Vieni! Servi da bere al nostro avvocato di spicco. Quello della vittoria è l'unico sapore di cui non ci si stanca mai. Soprattutto in un caso come quello di oggi. Cosa aveva di tanto speciale? Riuscire a far credere a tutti che Getulio fosse innocente è stato... Davvero esaltante. Ma è terribile. La verità non conta più. La verità, noi non ce ne siamo mai preoccupati. L'unica verità è quella di cui oggi Agostino è riuscito a convincere il giudice e il pubblico in aula. Siete taciturno stasera. Non sono abituata al silenzio in vostra presenza. E che a volte non so cosa dire. Peccato. Perché? Mi piace ascoltarvi prima di andare a dormire. Calida. Dimmi una cosa. Credi si possa fare a meno della verità? La si può negare? Agli altri? E anche a noi stessi, ma... Ma... Ma la verità è più forte. Bello o brutta che sia, non ci lascia. Rimane lì. Nascosta nel nostro cuore. E quale verità nasconde il tuo cuore? Io non posso offrirti. Non mi chiederò mai niente. E qui. E qui. E qui. Ma la verità nasconde il tuo cuore. E qui. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io ne ho una in ogni casa. Antiochia, Ravenna, Milano. Così ovunque io decida di andare, trovo sempre il mio letto caldo. Non fare l'innocente. Tu riesci a incantare la gente con le parole. Ma sotto sotto sei uguale a me. Sarà come dici. Agostino! Camillo, cosa fai qui? Dov'è tuo padre? Agostino! Qualcosa non va? Mio padre è libero. Ed è colpa tua! Quale colpa? Lo solo ha aiutato a provare la sua innocenza. Che tu sia maledetto non è vero che era innocente. Mio padre era colpevole! Colpevole! E tu l'avevi capito. Aveva davvero cercato di uccidere mia madre. E ora... E ora ci è riuscito. Mia madre è morta. Ed è colpa tua. Mia madre è morta. Quante gradini è disceso verso il fondo dell'inferno. Affannato e riarso dalla carestia della verità. Al tempo in cui cercavo Dio con gli occhi della carne, non con l'intelligenza della mente. Per cui lui ci ha voluti superiori alle bestie. E non venite a dirmi che la verità non esiste. Una persona è stata uccisa. Questa è la verità. E su questo non c'è da discutere. Nessuno è in grado di dire quale sia la verità prima che inizi un processo. Un processo in cui saranno solo le parole a stabilire quale sia. E alla fine del processo sarà quella dimostrata dall'avvocato con la maggiore abilità di parola. Sofismi. Cicerone. Un avvocato ben più grande di noi. Ha scritto nell'ortenzio che solo la verità può rendere felici gli uomini. E tutti gli uomini desiderano essere felici. Dunque la verità deve esistere. Altrimenti nulla avrebbe alcun senso. Ascolta. Una volta ti ho detto che è il coraggio a distinguere un grande oratore da un oratore qualunque. Il coraggio di fare a meno della verità. Tu hai questo coraggio? La voce dei fatti. Agostino. E' arrivato poco fa un messaggero da Tagaste. Vostro padre sta morendo. Volete portare anche questa? Sì. Non so ancora per quanto tempo starò via. Dovrebbe esserci tutto allora. Caleta. Sono arrivato qui con un piccolo baule. Grande così. E guarda adesso quante cose mi riporto a casa. Ma c'è una cosa sola che non voglio lasciare qui. tu. Vieni con me. So che non potremo sposarci. ma saremo lo stesso una cosa sola. Verrò con voi. anche se non potrò mai essere vostra moglie. Vi prego solo di una cosa. non chiedetemi mai di dividervi con un'altra donna. no. No. Basta, mi dà fastidio. E apre quelle tende, non sono ancora morto. Monica. Sono stato un uomo terribile, vero? Sei stato, lo sei ancora. Come hai fatto a starmi accanto tutti questi anni? Ho imparato a perdonarti e amarti per quello che sei. Perché ho capito soltanto adesso cosa significa amare. Ho paura di quello che verrà. Non voglio più essere l'uomo che sono. Voglio essere battezzato. Voglio essere battezzato. Mio padre deve essere già morto. Tu credi in Dio, padre? Padre Onnipotente. Credo. E io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Madre. Agostino. Lo sapevo che saresti venuto. Patrizio, guarda chi c'è. Patrizio, guarda chi c'è. Lei è Caleta. Lei è... Una serva. Sono una serva di vostro figlio. No. È un'amica. Un'amica. Esatto. Da Cartagine. No, proprio. Viene dalle terre del sud, dai grandi deserti. Ah. Mi porto un po' di minestra. Com'è andato il viaggio? Oh, abbastanza bene. Vostro figlio ha dormito per tutto il tempo. Viaggiare sul carro gli fa sempre questo effetto. Davvero? Questo non lo sapevo. Tuo fratello e tua sorella saranno qui tra qualche giorno. Hai saputo che si è sposato? Sì, ho saputo. E io invece ho saputo di Getulio. Ne parlano tutti qui a Tagaste. Tu e Macrobio l'avete fatto assolvere. Non è così? Sì. E dimmi. È davvero colpevole di omicidio, come tutti dicono che sia? Beh, dipende. Se potrà permettersi di nuovo Macrobio sarà innocente. Ma come parli, Agostino? Un uomo è innocente o è colpevole? Madre, un uomo viene dichiarato innocente o colpevole dalle parole dette in tribunale. Le parole non possono cambiare i fatti. Ah no? Allora neanche le vostre formule magiche li cambiano. E quali formule magiche parli? Di quelle che il Vescovo ha pronunciato davanti a mio padre. Nemmeno quelle possono cambiare i fatti. E quali sarebbero i fatti, secondo te? Che è sempre stato un farabutto. Un vigliacco. Se si è fatto battezzare solo perché ha paura. E questo neanche il battesimo può cambiarlo. Ma cosa vuoi saperne tu? Che ne sai altro del battesimo? Che ne sai di tuo padre? Della nostra vita qui, mentre tu te ne stavi a sproloquiare presuntosamente nei tribunali di Cartagine? E a passare le notti con questa... povera ragazza. Che stai solo illudendo. Dimmi, che ne sai tu di tutto questo? Avete ragione, cosa ne so io. Dopotutto questa non è più casa mia. Andiamo. Sov'o pieni. Agostino, sono felice di rivederti. Anch'io lo sono. Salve Romagnano. Ho seguito con molta attenzione i tuoi progressi in questi anni. Lei è calida. Una giovane donna la cui bellezza è degna della tua fama. Mi chiedevo se potevate ospitarci qui da voi per un po'. È un onore per me ospitare in casa mia la stella nascente dei tribunali dell'impero. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Guarda che stai parlando con un avvocato. Ho difeso persone orribili che hanno fatto cose ancora più orribili. Sì, infatti, è questo il punto. Guarda questi ulivi, ad esempio. Possiamo rimproverarli di avere i rami storti attorcigliati? No. È la loro natura. Lo stesso vale anche per noi. Non è colpa nostra se siamo fatti di materia, di male. Ma allora non c'è nessuna speranza? Una sola. Segui le mani. Solo lui ci può mostrare come liberarci dalla materia, dal male, per diventare pura luce, puro spirito. Così mi ritrovai in mezzo a persone pazze d'orgoglio. Verità, verità, ripetevano. E ne facevano un gran parlare con me. E in loro non ce n'era un'ombra. Oh, verità, verità, come si struggevano per te fin da allora le viscere della mia mente, mentre quelli mi rintronavano continuamente e in tutte le maniere con le loro chiacchiere, strepito e vento. Si sta perdendo. Vive con una donna che non potrà mai sposare. Ha abbandonato la sua carriera e ora è entrato a far parte di una sette eretica. È tutta colpa mia. Non avrei mai dovuto mandarlo a Cartagine? No, Monica. Hai fatto ciò che ritenevi giusto per lui. Ma adesso l'ho perso. Dio permette che ci perdiamo, perché ci si possa un giorno ritrovare. Ora cosa posso fare? Io... Io... Prega, Monica. Il figlio di così tante lacrime non può andare perduto. E gli animali, e i vari opinti uccelli, e quanti sono nell'acque vaste e limpide i viventi... Concentrati. Vai. Era la notte, e placido... E placido... E placido sopore, licenzio. Era la notte, e placido... E placido sopore. Prendean le stanche, membra sulla terra e quete. E quete? Sulla terra, e quete. La cena è pronta. Vi ho preparato qualcosa di speciale. Perché? Per farvi piacere. Non c'era bisogno. Io invece penso di sì. Per ricordarvi che anche voi lo siete. Cosa? Speciale. Questo lo so. Non ho bisogno che tu me lo ricordi. Io non devo dimostrare niente a nessuno. Perdonami. Non si ringrazia mai la servitù, non le si chiede perdono. Eh? Ve l'ho detto fin dal nostro primo incontro. Tu non sei una serva per me. Questo nemmeno le parole lo possono cambiare. E non vi dovete riconciliare con me. Ma con vostra madre. Dio sia con te, Monica. Agostino. Non vedi che anche lui si trova dove ti trovi tu. Così mi volto e vedo te nello stesso luogo. Proprio accanto a me. Un giorno io e te saremo uniti nella fede. È questo il significato del sogno. Ed è per questo che oggi sto bene. Allora presto diventerete anche voi una manichea. No. Quel giovane non ha detto dove è tuo figlio, sei anche tu. Ma tuo figlio è dove tu sei. Io sto bene dove sono. Stai sprecando il talento che Dio ti ha donato. Dio non... Che c'entra Dio? Io oggi sono quello che sono perché me lo sono guadagnato. L'uomo non si può creare da solo. Come non potrà mai essere in grado di bastare a se stesso. Questo lo dite voi, madre. No. È il nostro cuore a dirlo. Sono i vostri preti che ve lo fanno credere. I vostri preti vi fanno credere che avete bisogno di Dio. Ma dov'è questo Dio? Non lo potete vedere. Non lo potete sentire. E così, guarda caso, siete tutti costretti a chiedere aiuto. E a chi? A loro. Ai preti. Che in questo modo dominano le vostre coscienze. Ti stai sbagliando. Qui non c'è nessuno che tiene in pugno le coscienze degli altri. Avete sentito? Il vostro vescovo ha paura. Paura che possiate cominciare a ragionare da soli. Paura che capiate che quelle che vi ha raccontato non sono altro che favole. Favole sgrammaticate per Giunta, senza alcun fondamento scientifico. Hai visto? Che cosa ti avevo detto? Tu hai talento. Ma lo stai solo sprecando. Entriamo. Prego, venite. Crediamo che per te sia giunto il momento di entrare a far parte degli eletti. Un eletto io? Sì. In questo modo potrai difendere in pubblico, con la tua abilità retorica, la religione di Manu in pubblico. Certo. Tornerai a dimostrare agli altri quello che vale. Uno come te non può accontentarsi di insegnare grammatica ai bambini. E poi ricorda che noi abbiamo conoscenze. Il mondo è fatto di gente semplice e di persone superiori. Tu appartieni a queste ultime, naturalmente. Con noi potrai fare grandi cose. Ne sarei onorato. C'è una sola condizione. Gli eletti sono chiamati al celibato. Dovrai porre fine alla relazione con la tua compagna. Devo dirti una cosa, Calida. Anch'io una cosa da dirvi. Oggi Chi comincia? Comincia tu. Aspettiamo un bambino. Non siete felici? Ma certo. Come potrei non esserlo? E voi? Cos'è che volevate dirmi? Niente di importante. Solo che ho trovato una traduzione completa dei discorsi di Socrate. Ma costa molto. Volevo parlartene per sapere cosa ne pensi. Ma ora che aspettiamo un figlio. Credo sia meglio risparmiare. Siete sicuro? Mi dispiace che dubbiate No, no, no. Non ti preoccupare. Un figlio è più importante. E l'eva, toma in sopra. Madre? Madre, io e Calida aspettiamo un bambino. Entrate. Preferisco non restare a casa di Lumaniano. Con Calida così, in questa condizione. Se potesse accoglierci con voi, io... io... noi ve ne saremmo infinitamente grati. Non devi essermi grato di nulla. Sono tua madre. Vieni, Calida. Ti mostro dove potete sistemarvi. Calida. Calida. Adiudato, sta piangendo. No, vieni qui, amore mio. Forse vuole solo essere preso in braccio da suo padre. Senti, sto cercando di concentrarmi. Come sta avvenendo? Peggio di quanto speravo. Siete troppo severo con voi stessi. Questo libro non deve fallire come il primo. Il vostro libro sulla bellezza non è un fallimento. Presto si farà notare. Già. Nemmeno dedicarlo a un oratore come Egeri è servito a qualcosa. Date tempo al tempo. Tempo. Alla mia età Cicerone era già quest'ora e aveva già scritto numerose opere che vengono studiate addirittura ancora oggi. E i bambini? Non ne aveva? No. Ecco. Ecco. Voi invece avete già un figlio bellissimo. Cicerone aveva successo. Hai un figlio. Agostino. C'è qualcuno che vuole vederti. Romaniano. Che gioia, Agostino. Hai l'aria stacca. Già. Hai questo bambino? Sì, lui ha di odato. Posso prenderlo? Certo. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Oh, no, 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 no. Sono venuto per invitarti a casa mia domani. A casa vostra? No, 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 no. Sei ancora un ospite molto gradito. Sentite, io... sono ancora dispiaciuto per aver ricettato la vostra offerta di diventare un eletto. Hai dimenticato? nessuno è colpevole di niente. Incontrerai anche un tuo vecchio amico. Agostino! Valerio! Cosa ci fa un pezzo grosso come te a Tagaste? Potrei farti la stessa domanda. Vi prego, sedete. Allora, dimmi, dove vivi adesso? Ad Antiochia, ad Aquileia, a Treveri, a Roma. Lavoro per quinto a Aurelio Simbaco, il prefetto. Lo conosci? Chi non conosce il più grande oratore dei nostri tempi? Infatti, dovresti sentirlo parlare. Quanto tempo impiegherai a prendere il suo posto? Poco, se volessi. Ma in realtà ho in mente un piano ben più ambizioso. Valerio è qui per farti una proposta molto importante, Agostino. A Milano cercano un nuovo oratore di corte. L'imperatore ha dato a Simbaco l'incarico di trovargliene uno e lo sta cercando per tutto l'impero, ma non è cosa facile. A Milano c'è Ambrogio. È uno dei vescovi cristiani più molesti di tutto l'impero. È un politico astuto, è abile con le parole. Simbaco vuole che il nuovo oratore lo contrasti. E per questo mi sei subito venuto in mente tu. Sei un oratore eccezionale e mi hanno detto che odi i cristiani. Sarebbe una grande opportunità per te, Agostino, e per l'intera comunità manichea. Non dirmi che sono venuto fin qui per niente. La mia famiglia è qui. Una vecchia madre e una schiava come concubina. È questa la tua famiglia? Ho anche un bambino. E loro sono tutta la mia vita. Non è vita questa, Agostino. Ricordi ancora i nostri sogni, i nostri progetti. Tu hai solo paura, tutto qui. Paura di non essere all'altezza dei tuoi sogni, delle tue ambizioni. La prima volta che ti ho visto mi sono chiesto cosa ci volesse spremere da te il romaniano. La macina dell'olio pressa l'oliva. Ma se l'oliva non passa sotto la macina, non si potrà mai sapere se darà olio prelibato. Olio prelibato, certo. O semplice morchia. È la nostra ultima occasione. Dio ha gesso di me, fino a farmi maturare la decisione di partire alla volta di Roma. Agì su di me, servendosi di uomini attaccati a questo vivere già morto. Mentre io odiavo un'infelicità reale, agognando ad una felicità a fa sola. Agostino. Ma dove stai andando? A Cartagine. A Cartagine? Sì, è compagno Valerio. Deve imbarcarsi per tornare a Roma. Cosa credevate? Che me ne andassi senza dirvi niente? Avrei dovuto. Che cosa pensavate? Tornate a dormire. Devo andare, Valerio mi sta aspettando. Buon viaggio, figlio mio. Tra un paio di giorni sarò di nuovo qui. Mentì a mia madre, a quella madre, e fuggì. Il vento si levò e ci gonfiò le vele e lì lo scompariva ai nostri occhi quel mattino, quando lei, pazza di dolore, tempestava Dio di lamenti e gemiti. Non sapeva quali gioie tu le avresti fatto nascere dalla mia assenza e perciò, dopo aver maledetto la mia crudeltà, ricominciò a sopplicare Dio per me. Perché? Perché? Padre nostro che sangue i cieli sia santificato il tuo nome e che il tuo re sia fatto il tuo nome. Mi ha detto che sarebbe stato troppo doloroso, che non sarebbe riuscito a trovare la forza di dirtelo. che non ce l'avrebbe fatta a salutare te, a De Dato. Gli sarebbe venuto meno il coraggio di partire. Tieni. Siedi. Comunque ha promesso che tornerà presto. Oppure farà in modo che noi tre possiamo raggiungerlo. Eh? se ne tornò di nuovo alla sua solita vita. Io a Roma. Non voltarti indietro. La tua vita adesso è a corte. La gloria di Roma appare oggi sempre più offuscata dalla crescente popolarità di religioni come il cristianesimo. Ma queste sono come nubi temporalesche che solo a momenti possono nascondere il sole. Ma poi si dissolvono sciolte dal suo calore infinito. Un discorso discreto nel suo insieme. Peccato per quel vostro leggero accento africano. Dovreste correggerlo. Vi ringrazio del consiglio. Nobile Simaco. Potete andare. Valerio. Tu resta. Prepara i bagagli. Andiamo a Milano. Tu sei il nuovo oratore di corte. Erio. Il fatto che abbiano deciso di risiedere a Milano invece che a Roma fa capire quanto sia stato misero il livello degli ultimi imperatori. Sono stati imperatori soldati che hanno scelto Milano perché è più vicino ai confini con i barbari. Appunto. Eccolo qua. Il palazzo dell'imperatore. Avresti mai pensato di arrivare fin qui? Ripeti cosa ti ho detto? Mai guardare negli occhi l'imperatore. Mai contraddire sua madre. E mai fidarsi di nessuno. A corte. Aurelio Agostino e Valerio Crisco. Venite. Ah, mi raccomando butta lì qualche complimento a Bautone. Non conduce un esercito da anni ma ama ancora essere considerato un grande generale. C'è qualcuno qui che io possa alloggiare per quello che è? Sì. Lei. Blasilla. Blasilla! Valerio! Sei tornato finalmente. Come avrei potuto resistere più a lungo senza vederti? Non mi hai portato niente di bello dalle lontane terre d'Africa. La migliore voce dell'impero la futura stella della corte Agostino. Allora spero di avere l'opportunità di poter presto ascoltare la vostra voce. E di avere l'occasione di dimostrarmi all'altezza della presentazione di Valerio. Blasilla. Potere a parte. Non esiste cosa più desiderata di lei a corte. L'imperatore Valentiniano! Ascolta. Non ci si presenterà più un'occasione come questa. L'imperatore si è appena insediato. Tutte le cariche più importanti a corte devono ancora essere assegnate. Con la tua retorica e la mia esperienza possiamo scalare la vetta dell'impero. Sei con me? si presenti il consolare della Venezia Quinto Flavia. Valerio. hai portato con te il nuovo oratore di corte? Sì, imperatrice madre. Aurelio Agostino di Tagaste. E questo Agostino di Tagaste sa cosa vuol dire essere la voce dell'imperatore? Sì, imperatrice madre. Ed egli sa che la sua voce sarà ascoltata e rispettata da tutti i sudditi dell'imperatore? Egli sa soprattutto quale voce i vostri sudditi non devono ascoltare, imperatrice madre. Quella del vescovo Ambrogio che pretende di essere più ascoltato del nostro imperatore. Perciò, maestà, se volete che l'imperatore sia più ascoltato del vescovo dovete farlo parlare attraverso un oratore più apile di lui. Io non me ne intendo di queste cose, non mi competono. Qual è il piano? Agostino pronuncerà un discorso pubblico in onore del nostro imperatore ma sarà soprattutto un duro attacco nei confronti di Ambrogio. Un discorso che porterà l'opinione di tutti i sudditi dalla nostra parte. Presto nessuno ascolterà più la sua voce. E voi? Che avete da dire? Sentiamo la vostra voce. La mia voce è completo servizio dell'imperatore. Dirò dunque tutto quello che l'imperatore desidera ascoltare. Sei piaciuto all'imperatrice madre? È naturale, è una donna. Si è convinta che con il tuo aiuto potrà sbarazzarsi del vescovo Ambrogio? Come ha fatto il vescovo a diventare una tale minaccia per lei? Il marito di Giustina, il vecchio imperatore, aveva molta stima per il vescovo. Così gli ha concesso tanti di quei poteri che ora mette in ombra persino la corte. Ho della frutta meravigliosa, guardate. Prego, assaggiate. Vedi quella gente? Sono cattolici. Ma ora anche i pagani vanno ad ascoltare Ambrogio. Come ti dicevo, è un grande oratore. Questo lo vedremo. avanti, cammina! Cammina! Su, muoviti! Su! Andiamo! Andiamo! Questo lo vedremo! Muoviti! Muoviti! Sta zitto! Lasciatelo andare! Non mi fanno! Sta fermo! Fermo! Cammina! Vedrai spesso scene come queste. Sono le guardie imperiali di Giustina. Siete l'unico a non ridere, Agostino. sto servendo l'imperatore. Sto cercando delle idee per il discorso che devo tenere in suo onore. Vi conviene lavorare di fantasia? La fantasia è solo un'altra forma di bugia. Infatti, la bugia si camuffa con molti nomi. Falsità, invenzione, favola. Ecco perché la trovo così divertente. È molto spesso deludente. È proprio per questo che abbiamo bisogno per artisti come voi. Dovreste farlo mio onore al discorso. Adoro quando la gente dà libero corso la fantasia sotto di me. Sarebbe divertente, pensateci. non potete entrare. Vescovo Ambrogio, non ricordo di avervi invitato. sono venuto qui per chiedervi qualcosa di più importante di un semplice invito. E cosa sarebbe? Giustizia. Conosco un uomo, un marito onesto e devoto, padre di tre figli. Ricordo quando sua moglie chiede alla luce il loro primo figlio. quest'uomo si trovava al fronte a combattere per Roma. Ricordo quando il secondo figlio morì per una febbre improvvisa. Quest'uomo si trovava al fronte a combattere per Roma. Ricordo quando quest'uomo salutò il suo ultimo figlio che partiva per il fronte e che poi morì per Roma. Oggi quest'uomo è in carcere. Ieri le vostre guardie lo hanno arrestato per non aver pagato i suoi debiti e domani lo venderanno come schiavo. È la legge. I debiti devono essere pagati. Per questo sono qui oggi. Perché Roma ha un debito nei confronti di quest'uomo. Un debito che voi potete saldare restituendogli la libertà. Occupatevene voi, generale. Conosco quell'uomo. Mi occuperò io del suo caso. Generale Bautone, grazie per aver accolto la mia supplica. Perdonate se vi ho risturbato. Imperatrice madre, imperatore. Visto che siete qui, vescovo Ambrogio, colgo l'occasione per presentarvi Aurelio Agostino, il nuovo oratore di corte. Ho sentito molto parlare di voi. Anche io di voi. Mi è stato detto che siete un seguace di mani. È vero. È così. Ho davanti a me un manicheo, due cristiani ariani, un comune pagano e un seguace di mitra. Viene da chiedersi quale sia la verità. O se l'uomo possa mai trovarla. No, Agostino. No. Non è l'uomo a trovare la verità. Deve lasciare che sia la verità a trovare lui. arrivai così a Milano del vescovo Ambrogio. A lui era stato Dio a guidarmi, inconsapevole, perché da lui fossi consapevolmente guidato a Dio. Capisci, Possidio? Già una volta mi sono imbarcato per Roma e ho rischiato di perdere me stesso. È necessario che faccia la stessa cosa? Ma questa volta è il Papa che vi ordina di andarci per salvarvi. Dovrei salvare me e lasciare che la mia gente muoia? Sai, ieri mattino ho guardato le cicogne emigrare. Come le ho invidiate. Loro sanno sempre quando partire e in quale direzione andare. per noi invece è così difficile capire che cosa voglia Dio da noi. Governatore? Grazie di essere venuto, Centurione. L'ho parlato con gli ufficiali della guarnigione della città. Sarebbero felici di mettersi ai vostri ordini. È per me un onore ma credo che sappiano meglio loro di me come difendere Ippona, governatore. Pudassi, ma chi ha parlato di difendere? Io sto parlando di attaccare. Con voi al comando i nostri soldati potranno spezzare finalmente l'assedio e liberare Ippona. Ci sono decine di migliaia di vandali. I numeri non importano. L'impero di Roma ha sempre vinto contro eserciti più grandi. Ora che i vandali credono che siamo sul punto di cedere una nostra vittoria su di loro ribalterebbe la situazione. Io sono il governatore di tutta la provincia e potevo essere a Cartagine adesso al sicuro. Invece sono venuto qui poco prima che arrivassero i vandali e sapete perché? Perché sono sempre stato convinto che la nostra controffensiva sarebbe cominciata da Ippona. Ricaccieremo quel branco di barbari da dove sono venuti. Salveremo il nostro impero. pensate agli onori che vi saranno tributati. Penso agli uomini che perderemo. No. Pensate piuttosto ai civili che saranno salvati dalla vostra spada. Come sta? Ha superato la notte. con l'aiuto di Dio ne passerà un'altra. Non con l'aiuto di Dio con il vostro. Io ho cercato soltanto di non fare troppi danni. Quanti di loro potranno tornare a combattere? Combattere? Allora tanto valeva lasciarli morire. Avete ragione. Forse sarebbe stato meglio. Vedo che oggi non portate con voi la spada. Un soldato non deve sempre combattere. Allora vi supplico non fateli combattere. Lasciateli vivere. La domanda è questa. Devo lasciare che i miei uomini vivano e far morire la città può lasciare che muoiano per far sì che la città vivano. Qui a Ippona siamo 12 gruppi più o meno 150 uomini per ogni gruppo. Sono 1800 soldati in tutto. Con i miei arriviamo a 2000. Sono ancora troppo pochi. Quanti sono i civili in grado di combattere? Direi almeno almeno 5.000 uomini. Arruogliamoli. Servono più uomini su questo lato. Giù in fondo là e qua davanti. Andate! Portate via queste suoie. Non servono più. Ma dove sono tutti i feriti? Quando hanno saputo che il loro capitano stava preparando un attacco sono tornati da lui. Questo appoggialo là per terra. Gli altri vediamo. Allora la cintura d'assedio dei vandali è disposta in questo modo e noi li attaccheremo nel loro punto più debole qui. Ma quello è il punto più lontano. Esatto. È proprio lì che non si aspettano di essere attaccati. Quella sarà la posizione migliore per prenderli alle spalle. Da assediati diventeremo assedianti. Centurione vi devo parlare. Riportate indietro quei soldati feriti. Sono sotto la mia responsabilità. Hanno deciso spontaneamente di tornare a combattere. Allora ordinate loro di tornare alla Basilica. Sarebbe un'offesa. La verità è che a voi piace disporre delle loro vite. Un uomo ha diritto di diventare un eroe. No, 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 no. Ti ho detto di fissare prima la sicura. Va bene? Sì, signore. O volete togliere loro anche questa possibilità? Voi cristiani è la vostra pavida mentalità sempre così remissiva, sempre così rassegnata. No, no, è una mentalità remissiva. E voi allora siete così attaccato alle cose di questo mondo da adorarne come delle divinità? Il mondo? Voi nemmeno lo conoscete il mondo sempre attaccato alla veste del vostro adorato vescovo. C'è sicuramente molta più vita accanto a lui che in qualunque altro posto al mondo. Vita? e voi la chiamate vita, questa. Ma certo che lo è. Voi non lo sapete cos'è la vita. Non avete mai visto il sole tramontare lento sul campo di battaglia. Ho bevuto acqua di sorgente con le mani in mezzo al deserto. Non avete mai assaporato un pezzo di frutta fresca dopo aver trascorso intere settimane in alto mare. Voi Zio Agostino le navi inviate dal Papa sono già qui. Dobbiamo subito imbarcare i vostri libri e partire. E dove andremo? Lontano da qui al sicuro a Roma. Non sto parlando della destinazione delle navi. Sto parlando del nostro destino. Dove andremo? Io dove andrò se abbandono sotto assedio la città che Dio mi ha affidato? di Dio mi ha affidato? Dove andrò 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 si rinca Dove andrò se abbandono Grazie a tutti.